Ma secondo voi le rocce hanno un'anima? Questa è la questione che si pone practical ethics, questioni di etica pratica, è una newsletter pubblicata dalla University of Oxford e si pone diversi problemi di natura appunto etico-filosofica e quella che si pone nel numero dell'8 luglio di quest'anno è appunto firmata da Charles Foster e si intitola What if stones have souls? E se le pietre avessero un'anima? È un'analisi molto interessante non per quanto riguarda la possibilità che le rocce abbiano o meno un'anima ma perché riflette su come noi esseri umani ci poniamo rispetto al mondo che ci circonda anche quando ascriviamo ad altri esseri viventi non umani come gli animali o le piante dei diritti ad esempio non vogliamo trattare male non vogliamo che si trattino male gli animali e quasi dappertutto nel mondo ci sono leggi che proteggono gli animali dai maltrattamenti e questo signor Charles Foster riflette sul fatto che noi lo facciamo sì ma non per amore incondizionato degli animali ma perché pensiamo che gli animali soprattutto i mammiferi soprattutto quelli più vicini a noi abbiano dei sentimenti e non tanto dei sentimenti abbiano una sensibilità o una coscienza simile a noi esseri umani quindi noi trasferiamo su di loro quello che pensiamo ci medesimiamo potrebbe essere il dolore se fossimo noi a provarlo allo stesso modo quando ci sono delle leggi che proteggono i boschi che proteggono gli alberi non lo facciamo in modo diciamo privo di interesse pensando semplicemente al benessere degli alberi lo facciamo perché gli alberi servono a noi esseri umani perché ci aiutano con l'ossigeno e ci aiutano a disperdere i gas tossici eccetera quindi quando proteggiamo gli animali quando proteggiamo le piante lo facciamo sempre però in modo egoistico pensando che sia una cosa buona per noi e allora questo signore si pone la domanda noi non sappiamo effettivamente se un cane abbia la coscienza non sappiamo nemmeno cosa sia la coscienza non sappiamo nemmeno cosa è l'anima e non sappiamo nemmeno se non riusciamo neanche a definire in modo univoco cosa sia l'anima e cosa sia la coscienza in noi esseri umani ecco allora non potrebbe darsi che anche quello che esseri che noi consideriamo privi di anima ripeto pur non sapendo cosa sia l'anima non è possibile che anche loro quest'anima ce l'abbiano ad esempio le pietre e se le pietre e le rocce anche loro avessero un'anima allora